Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale. Con questo video confermo la mia adesione alla mega collaborazione lanciata qualche giorno fa da Fedi Kitti. Una mega collaborazione che non coinvolgerà solo canali piccoli come questo, come già avvenuto in passato, ma innanzitutto anche canali più grandi di oltre 4-5 mila iscritti che hanno già dato la loro adesione. Oltre al video di collaborazione vero e proprio che sarà pubblicato entro la fine di giugno e consisterà in un face of the day, ciascuna partecipante deve, poco prima, come sto facendo io adesso, pubblicarne un altro intitolato come questo che state guardando, dove sponsorizza e conferma la sua partecipazione dalla mega collaborazione. E a questo punto entrate in gioco voi, perché dovreste, se ne avete voglia, se vi fa piacere, se volete sostenerci, aggiungere questo video che state guardando tra i preferiti e cliccare mi piace, possibilmente fare la stessa cosa con quello di Fedi Kitti del quale vi lascio il link giù nell'info box e con quanti più video possibili di questo tipo che vi vengano sotto schermo, diciamo, sotto gli occhi, in modo da dare tantissime chance di visualizzazione nell'home page di YouTube a questi video e quindi sponsorizzare e allargare sempre di più il giro alla nostra mega collaborazione che vogliamo diventi gigantesca. A questo punto se voi non fate video vi potete fermare qua, sostenendoci solamente con il vostro solito affetto, come fate già. Se invece avete un canale e fate video, partecipate anche voi se vi fa piacere, perché più siamo e non solo più avremo visibilità, ma soprattutto ci divertiremo di più, che questo è poi lo spirito fondamentale di queste iniziative. Tra l'altro il Face of the Day è un tipo di video molto divertente anche proprio da creare, perché ci si presenta già truccate e si descrive il trucco realizzato e i prodotti utilizzati, per cui anche chi magari non edita video può cavarsela in fretta, nel senso si fa presto a fare, ed è molto divertente perché si vedono i prodotti e ci si scambiano opinioni e pareri. Inoltre sarà un modo per conoscere nuovi canali e quindi io sono molto metrizzata l'idea. E basta, tra l'altro io, come stavo dicendo prima, mi piace molto il Face of the Day, ne ho appena fatto uno pochi giorni fa, addirittura con tre proposte in un unico video, tutte con la Naked 3, del quale vi lascio il link nell'infobox se non l'avete ancora visto, insomma ditemi cosa ne pensate. Per cui ragazzi, io spero di essere stata chiara, vi ricordo di passare anche da Fedikitti, vi lascio il link del canale e del video in questione, giù nell'infobox l'ho già detto. Voglio salutare e ringraziare le nuove iscritte che si sono aggiunte in questi giorni, mandando loro un bacione. Ovviamente il bacione è valido anche per le iscritte di Sebra, le quali, lo sapete, voglio molto bene. E se vi fa piacere ci vediamo al prossimo video. Ciao!